Oggi noi abbiamo un dovere che è quasi un dovere morale di affrontare alcune delle criticità storiche di questo paese e di dare risposta che sia per oggi ma che sia anche per i prossimi 15 anni. Il tema delle risorse naturali è per noi sacro. Si fa agricoltura grazie alla terra sana, fertile, grazie all'utilizzo delle acque. Quindi quando si parla di preservare le risorse naturali, i primi che sono interessati alla tutela delle risorse naturali sono gli agricoltori. Entro il 2020 si verrà attuata una seria politica di semplificazione e sburocratizzazione, offrire più di 200.000 posti di lavoro come comparto agricolo. Noi è vero che siamo in una fase di emergenza in cui dobbiamo dare risposte e se ne siamo tutti all'altezza risposte importanti a questo paese e siamo consapevoli che bisogna avere una visione, bisogna incominciare ad avere una idea di paese. Quindi sul tema della transizione energetica e dello sviluppo sostenibile dell'ambiente credo che qui sia la sfida delle sfide. E qui dovremmo fare veramente, signor Presidente, una grande partita, giocare una grande partita come italiani andando a definire tra di noi qual è però la visione comune sul Green New Deal italiano. Ringraziamo il governo per questa prima rata dell'Imu che ci ha dato una boccata di ossigeno. Noi chiederemo e abbiamo già chiesto in questo decreto crescita in un emendamento di abolire anche la seconda rata, cioè la rata di dicembre, perché soprattutto per gli alberghi che non riaprono a dicembre è difficile che abbiano i soldi per poter pagare la seconda rata. Una revisione dei mutui a lunga scadenza. Il settore dello spettacolo, sia pubblico che privato, ha dimostrato in questo periodo drammatico una grande vulnerabilità. Noi le diamo il senso di unità della filiera, di lavoro comune, vi vogliamo trasmettere però il sentimento che le misure o sono tempestive, circostanziate ed efficienti in tempi rapidi oppure rischiamo di rimanere indietro nella ripresa che sarà internazionale e a rischio di non essere italiana. E noi crediamo che il meccanismo di una carta per il consumatore, così come è già stato fatto per la App 18, per la carta dei docenti, sia uno strumento efficiente e crediamo di rapida attuazione. Il governo prende l'impegno per assolutamente puntare e investire nel turismo, nel settore della cultura, del cinema, dello spettacolo, dell'editoria. Si è capito attraversando questa crisi quanto è importante la cultura e quanto è importante il turismo in questo paese. E lo si è capito vedendo adesso le nostre città vuote di turisti. Sapete bene le cose che abbiamo fatto nei primi decreti, Presidente abbiamo più o meno, sono stati circa 5 miliardi fra cultura e turismo, che è una cifra importante. Non bastano, lo sappiamo perfettamente che non bastano. È stato esteso a questi due settori il sistema degli ammortizzatori sociali che nessuno aveva. Poi sono arrivati in ritardo, si poteva far meglio, devono continuare, ma abbiamo parlato di un sistema di ammortizzatori sociali che altri settori avevano, che i settori di cultura e turismo non avevano. Quindi mi pare un passaggio significativo. Ora, io credo che, piuttosto che parlare delle cose fatte, si debba ragionare su un tema che è un tema generale, stiamo ragionando, il Presidente lo ha detto, infrastrutture, non si scappa, è un tema che non riguarda strettamente il mio Ministero, ma se tu vieni in Italia e arrivi all'aeroporto di Fiumicino di Malpensa, e arrivi dall'Australia o dagli Stati Uniti, e vuoi andare a vedere i bronzi di Riace, si deve arrivare con l'alta velocità. Perché torneremo al problema del sovraffollamento, non è che davanti alla fontana di Trevi resterà come adesso, torneremo al problema di dover distribuire i flussi turistici, distribuendo ricchezza, distribuendo crescita, rendendolo compatibile con tutto il Paese. Siamo tutti chiamati a svolgere un compito grande.